E vuole essere un modo per valorizzare i prodotti bio ma anche un veicolo turistico il distretto biologico Terremarchigiane che è nato oggi a Durbino. Il distretto biologico Terremarchigiane è divenuto realtà ed è frutto di un patto tra gli agricoltori biologici e le amministrazioni locali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. All'incontro organizzato da Confcommercio Marche Nord a Durbino erano presenti tra gli altri alcuni sindaci dei comuni associati nonché il vicepresidente della giunta regionale Mirko Carloni collegato a distanza. Attraverso un concorso indirizzato agli studenti dei licei artistici delle Marche è stata selezionata una ragazza del liceo artistico Preziotti Licini di Fermo Porto San Giorgio per aver realizzato il logo migliore utilizzato come simbolo del distretto. Confcommercio ha delitto perché riteniamo che il distretto del biologico sia una grande opportunità dal punto di vista economico e turistico per tutto il territorio. Crediamo che un'associazione che si occupi di biologico non debba coinvolgere solamente gli operatori agricoli, gli operatori che fanno del biologico una condizione di vita, di esistenza, ma deve coinvolgere tutti gli operatori della filiera a cominciare dagli operatori del turismo. Tante le attività previste, tutte in sinergia tra vari protagonisti. Sono ben 26 le amministrazioni comunali che hanno aderito. Per quanto riguarda il settore privato invece si parla di 115 aziende biologiche coinvolte, nonché tre cooperative biologiche e altri operatori del settore terziario e gruppi di acquisto solidale. Siamo veramente un distretto unito e tale vorremmo rimanere, quindi siamo qui oggi per rappresentare lo stato dell'arte di questo distretto, i contenuti e ovviamente le attività sono tante, quindi il territorio è vasto, parliamo di 26 amministrazioni comunali, 115 aziende con tre cooperative. Il distretto biologico è in linea inoltre con l'ecoturismo e permette di considerare l'ambiente, la gastronomia, la cultura come elementi attivi per la valorizzazione delle eccellenze territoriali. Nella nostra provincia è da molto tempo, dal 1975 mi pare che si è iniziato a coltivare in biologico e ormai il numero di aziende, gli ettari coltivati, ma soprattutto anche la trasformazione del prodotto biologico che non è sempre parallelo alla produzione agricola. È l'elemento importante che ormai nel mondo è riconosciuto che nella nostra provincia già l'eccellenza della provincia di Pesorubino nella produzione biologica è un dato di fatto. Grazie. Grazie Grazie